Nel corso dei miei quattro anni di trading ho visto un sacco di persone operare senza una strategia, un sacco di persone operare con una strategia ma totalmente a caso buttata lì, oppure persone che avevano una strategia ben scritta, ben definita ma poi non la rispettavano mai, appena avevano voglia di chiudere un occhio e di entrare a mercato anche senza tutte le conferme che si erano scritti lo facevano lo stesso. Ecco se tu ti stai comportando come una delle persone che abbiamo appena elencato così nel trading non si può fare, nel trading è fondamentale avere una strategia scritta, backtestata nel tempo da te perché siamo tutti diversi quindi delle cose che potrebbero funzionare con te magari non funzionano con me e viceversa. Non avere una strategia per un trader è come per un imprenditore andare totalmente a cieco negli investimenti, non sapere proprio dove si è girati e provare a caso un po' tutto, quello che viene viene. Ecco noi trader lavoriamo con la matematica, con la statistica quindi non ci possiamo permettere di andare a mercato totalmente a vuoto senza capire quello che stiamo facendo. Per l'appunto ci serve una strategia che abbiamo provato nel tempo che sappiamo che ci può dare statistica a nostro favore e quindi nel lungo termine farci guadagnare alla fine. Per chi non mi conosce sono Gabriele, faccio 34 anni ormai full time e oggi andremo a vedere una strategia che è un po' diversa dalle altre, magari anche un po' più difficile perché per applicarla dobbiamo avere la conoscenza al 100% del mercato ma è quello che faccio io in ogni video e cercarevela di trasmettere. E una volta avendo la conoscenza di quello che fa il mercato al 100% puoi anche non concentrarti su un singolo time frame ma guardarne di più perché se io capisco perché il daily si sta muovendo in questo modo so a mia volta operare su H4, a mia volta so cosa sta succedendo su H1 e so cosa sta succedendo su M15 e tutti i time frame che volete. Quindi il nostro obiettivo è conoscere il mercato al 100% per non doverci soffermare per forza su H4, su H1 oppure se siete scalper su M5, M15. Se so la situazione generale posso permettermi di operare, di mettere mano su ogni time frame perché tanto so cosa sto andando a fare, so quando posso prendere profitto, so quando il mercato può invertire. Quindi ragazzi prima la vediamo a livello teorico e ne andremo a parlare bene di ogni conferma per avere tutto chiaro e poi andiamo a grafico. A vedere 5 entrate che ho preparato per voi per farvi capire al meglio a livello pratico. Ecco ragazzi questa è la nostra checklist, come vedete abbiamo pochissime conferme, ne abbiamo massimo 5 perché una cosa fondamentale nel trading è non complicarsi la vita. Ho visto un sacco di persone, in primis io personalmente anni fa quando ancora non avevo fatto di questo un lavoro, che provavo a cambiare strategie ogni giorno e ogni volta che capivo un concetto in più provavo ad aggiungerlo nella mia strategia. Mi era venuto fuori un papiro lungo 10 km con 3000 regole, dovevo stare attento a 3000 cose, se non c'era una non entravo a mercato. Il risultato è che mi ero incasinato tantissimo la testa, aspettavo 3000 conferme anche senza un senso, 3000 cose che avevo visto di qua, di là, mettevo tutto insieme il trading istituzionale col trading geometrico, tutto chi più ne ha chi più ne metta per alla fine non capirci niente, avere il cervello che mi esplodeva e ovviamente andare in negativo nel mercato. La vera svolta l'ho fatto con gli anni quando piano piano ho capito che più tradi semplice più sarà facile, siamo noi che scegliamo il livello di questo gioco, siamo noi che possiamo metterci livello difficile, facile, medio, alto, come giocassi alla Playstation. Appunto io ho detto perché devo complicarmi la vita, ho anche 4-5 conferme che mi danno statistica a mio favore che è quello che voglio e che ovviamente però devono essere conferme importanti che abbiamo studiato e che hanno un senso nel mercato. Sì ce l'ho, allora basta mi trovo bene così, trado col cervello pulito e trado facile e trado molto più rilassato con la mente tranquilla che è quello che un trader deve avere come prima cosa. Allora come prima regola dobbiamo essere ovviamente a favore di trend, sappiamo che appunto un trader guadagna con la statistica proprio a favore quindi perché devo comprare se in questo momento il mercato sta scendendo, già mi metterai contro statistica. Quindi questa è la prima regola e la più fondamentale. Come seconda regola dobbiamo avere la dominance a nostro favore. La dominance che cos'è? La dominance ce l'ha chi sta comandando in quel momento, chi sta dominando in quel momento il mercato, quindi o i buyers o i sellers. Capendo la dominance e ho fatto un video che vi lascio qui sopra proprio sul canale avremo capito una cosa fondamentale nel mercato ovvero chi sta comandando in quel momento. E ripeto per avere la statistica a mio favore anche qui tutti i concetti sono uguali e alla fine dobbiamo avere questa dannata statistica a nostro favore. Ovviamente dovrò comprare se stanno comandando i buyers o vendere se stanno comandando i sellers. La terza regola è avere la visione generale del mercato ovvero la contestualizzazione a nostro favore. Anche qui ci ho fatto un video che vi lascio qui sopra che si chiama come capire il mercato al 100% è il video prima che ho fatto a questo. E ragazzi questo per me è fondamentale perché una volta capito il mercato in generale quindi tutti i comportamenti dei time frame e i perché si stanno comportando così avremmo capito veramente una grande grande parte del mercato e ci troveremo in molte meno situazioni dove non sapremo il motivo, non sapremo perché il mercato si è mosso così, perché ha fatto quello. Questa secondo me è la regola più importante. La numero 4 è entrare sul livello di Fibonacci. Sappiamo che un trader deve comprare i minimi e vendere i massimi quindi entrare a mercato in un livello dove il mercato ha finito di riposarsi e poi inizierà la nuova estensione sia a rialzo che a ribasso per noi è fondamentale. Della quinta regola possiamo averne solamente una perché è un plus, è una cosa in più. Certo più ne abbiamo meglio è, avremo più statistica a nostro favore. È tanta roba se in più abbiamo un livello psicologico nella zona in cui stiamo entrando e anche su questo ho fatto un video che vi lascio qua sopra. Uno schema, un movimento istituzionale quindi nella zona dove stiamo entrando a mercato le banche hanno fatto uno dei loro schemi e sappiamo cosa sta per succedere. Anche su questo c'è un video nel canale e quindi ve lo lascio qui sopra. Oppure semplicemente un ritest strutturale a livello di price action quindi sappiamo che il mercato una volta rotta una struttura dovrà tornare a ritestarla. Ragazzi è fondamentale che per vedere questo video abbiate tutti i concetti di cui andremo a parlare che abbiamo appena visto nella checklist ben impressi in testa quindi vi do un consiglio. Se ancora non sapete al 100% tutte le cose di cui andremo a parlare oggi sul canale appunto ho fatto formazione come vi dicevo due secondi fa su tutto quello che andremo a vedere quindi c'è un vero e proprio percorso formativo che parte da che cos'è il forex a come si muove il mercato e perché come guadagna un trader e così via i livelli psicologici di cui abbiamo appena parlato come strutturare una checklist tante analisi quindi dovete arrivare in questo video ben preparati per capire al 100% ogni cosa. Ok ragazzi adesso direi che è il momento di andare a grafico e andare a mettere in pratica tutto quello di cui abbiamo parlato e vedere alcune analisi che ho preparato per voi. Partiamo con la prima entrata che avremmo potuto fare qui su EURCHF come vedete questa è un'entrata su time frame un po' più bassi un'entrata che si poteva fare a livello di scalping intraday come vediamo qui sul nostro time frame eravamo in un trend ribassista e lo possiamo capire semplicemente dal minimo massimo minimo più piccolo del precedente quindi potevamo prenderci l'entrata sul nuovo massimo. Quindi essere a favore di trend lo eravamo se saliamo di time frame su H1 che si vede meglio e vi ricordo che possiamo vedere la dominance che è ribassista perché questo era l'ultimo minimo in quel momento da rompere che è stato rotto da questi sellers quindi quando noi ci siamo trovati in questa situazione qui la dominance era ribassista e qua possiamo ancora vedere meglio quello che abbiamo visto prima ovvero il trend con un minimo più piccolo. Ovviamente ragazzi più saliamo di time frame più tutte le informazioni che andremo a vedere come la dominance su H1 ha più valore che su M15 come invece H4 ha più valore di H1 più saliamo di time frame più le informazioni hanno valore semplicemente perché una candela di 4 ore ha 4 ore di informazioni mentre una candela di M15 ha 15 minuti di informazioni. Quindi la price action ha molta più statistica se la guardiamo sui time frame più alti. I time frame più piccoli ci serviranno invece per entrare a mercato perché il pregio che hanno è avere più precisione possiamo guardare le emissioni più precisamente e entrare a mercato più precisamente. Poi avere una visione della contestualizzazione a nostro favore vediamo che se saliamo sui time frame appunto perché come dicevamo prima dobbiamo capire tutto l'insieme generale ad esempio se andiamo sul daily che è molto importante sappiamo che siamo in un trend ribassista ci ha fatto un minimo massimo minimo più piccolo massimo più piccolo ha riposato e ora dovrebbe farci la nuova estensione quindi entrare al mercato qua ha senso anche nei time frame più grandi perché sappiamo che il mercato ci deve scendere fino a dove? Fino almeno a sto punto a chiudere l'inefficienza come vedete il mercato qua aveva lasciato questo buco questa inefficienza che non aveva ancora chiuso del tutto quindi ci deve arrivare in questo punto qua che è il 969 tondo ok quindi la visione generale ce l'avevamo anche sui time frame più alti. Poi per la nostra entrata volevamo un livello di fibonacci perché è bello vendere in alto quindi tiriamo fibonacci dal massimo al minimo e sappiamo che qua nei nostri livelli c'è una zona che a me piace tantissimo che è quella tra il 78 e l'88 che va proprio in concomitanza con la nostra entrata. E ora andiamo a vedere perché ho messo l'entrata lì l'entrata qui l'ho messa perché scendendo di time frame ho visto che qua c'era l'ultima candelina a rialzo quindi blu prima del ribasso quindi l'ultima candelina buy to sell si chiama. In più ragazzi anche qui c'era dell'inefficienza lasciata quindi in questa zona c'era da chiudere dell'inefficienza e in più quindi quando ho tirato la semiretta non l'ho lasciata così a caso ma come sempre vado nelle coordinate e metto o il 20 o 50 o l'80 abbiamo fatto i livelli della number theory quindi questa era la nostra entrata. Vedete sono entrato anche un pochino più sotto della candela ma è meglio prendere un livello preciso dove so che il mercato molte volte si ferma piuttosto che per 0,5 pips perdemi tutto il profitto che potevo fare. Sapete quante volte ho perso delle entrate perché ancora non usavo i livelli psicologici o la number theory quindi mettevo le entrate senza arrotondare appunto in questi livelli e perdevo delle belle entrate delle belle percentuali che potevo fare per veramente poco così il mercato arrivava nella mia zona mi sfiorava l'entrata poi andava dove doveva andare e io davvero colpa al mercato dicendo eh però non è tornato lì il mercato non si muove come deve il mercato si muove sempre come deve muoversi ero io che mi stavo sbagliando e non conoscevo tutto alla perfezione. Ok quindi abbiamo visto che abbiamo anche la nostra zona di fibonacci quindi mi sembra che abbiamo tutte le carte in regola per poter entrare a mercato quindi questa era la nostra entrata e uno degli ultimi take profit ovviamente nel frattempo si doveva prendere degli altri take profit parzializzare ma ora non siamo qui a vedere questo siamo qui per vedere l'entrata ma uno dei take profit finali che infatti è dove è arrivato il mercato era proprio qua dalla chiusura in efficienza e questo era un bel rischio rendimento andiamo a vedere che è un 1 a 12 quindi se rischiavamo un 1 per cento facevamo un 12 se rischiavamo un 2 per cento facevamo un 24 ovviamente parzializzando un po' meno ma è sempre un bel rischio rendimento. Come seconda entrata potevamo fare questa sua urgbp che ora andiamo a vedere e vi spiego anche perché ho messo due tipologie d'entrata intanto ragazzi qui eravamo in un trend ribassista quindi per vendere era un trend a nostro favore quindi massimo minimo massimo più piccolo e minimo più piccolo il precedente. Estensione potente guardate questa candelona nera come va giù potente quindi qua in 8 ore perché ci sono due candele ci fanno questo movimento e guardate qua invece quante candele quanto tempo ci mettono a riposare per poi riscendere. Questo si chiama momentum e ci fa capire veramente tanto quando dobbiamo entrare a mercato. La dominance anche qui era a nostro favore perché questo era l'ultimo minimo rotto da questi sellers quindi stavano comandando loro quindi anche questa ce l'abbiamo. Visione della contestualizzazione a nostro favore ovvero dei time frame più alti per capire dove siamo se stiamo vendendo in un punto con un senso ce l'abbiamo perché eravamo in questo punto qua che possiamo vedere il mercato cosa stava rifacendo qui aveva creato due candele buy prima dello short che ci ha rotto andiamo a vedere col corpo questo minimo e quindi stava testando questa candela qui possiamo anche tirare un 50 per cento della candela stava testando questa zona per poi andarci a ribasso. Perché ho messo quelle due entrate lì perché scalando di time frame vado sempre a prendere l'ultima candelina buy in questo caso prima dello short che ci ha rotto l'ultima struttura che mi piace di più ovvero un po' più piena. Questa era piena di spike di rifiuto quella su 8 ore non mi piaceva non potevo prendere questa candela abbastanza brutta con questi rifiuti però su 2 ore ho visto questa candela bella piena quindi piena di missione a rialzo prima del ribasso. E io cosa ho fatto primo ho tirato la semiretta qua a inizio candela ma poi sono andato a perfezionare con i livelli psicologici ho visto che sopra c'era l'870 e 80 quindi 20 50 80 sono i numeri che vogliamo utilizzare. Un'altra entrata quando è in questi casi e questa si chiama position building ovvero mettere più entrate quindi se noi volevamo rischiare l'1% del nostro capitale in questa operazione avremmo rischiato 0,5 quindi la metà di qua e la metà di qua. Così in caso di stop loss avremo perso uguale ma in caso di profitto possiamo fare più percentuale perché questa la prendiamo con un rischio rendimento migliore. L'ho messa qui perché la maggior parte delle volte vado a prendere il 50% del corpo della candela quindi vado a tirar fibonacci sulla candela il 50% era qui ma anche qua sono andato a posizionarla sull'871 e 20 che mi piace di più. In più ragazzi per vedere l'ultima conferma potevamo tirare fibonacci dal massimo al minimo e qua c'era anche la nostra zona che ci piace comunque tra il 78 e l'88 per la seconda entrata o tra il 71 e il 78 per la prima. Vediamo ripeto qua al momento un potente riposo e quindi non aspettavano altro che toccare sta zona per poi andare dove dovevano andare. Proviamo a chiudere e infatti ci sono arrivati in questa zona lo stop loss ovviamente va messo sempre sopra il massimo sopra il rifiuto quindi lo potevamo mettere così lo stop loss ok sopra questo massimo. E queste erano le nostre due entrate il take profit anche qua ora non andiamo a vedere nei minimi dettagli poi se mai ci farò un video a parte dove mettere tutti i take profit fatemi sapere nei commenti se lo volete. Però appunto lo potevamo mettere qui di nuovo a chiusura in efficienza da questo minimo perché sappiamo che il mercato primo poi ci doveva chiudere tutta questa zona. Infatti il mercato ci è arrivato in questa zona qua ci ha anche sfondato quella zona e qua potevamo portarci a casa comunque un 1 a 11 praticamente un 1 a 10 e 90 e un 1 a 6 87 che è un bel bel rischio rendimento. E ora andiamo a vedere la terza tipologia di entrata che potevamo fare qua siamo su gbp jpy se vediamo siamo in un trend rialzista ok il mercato sta andando a rialzo. Senza ogni volta ora andare a segnarci i massimi e i minimi ormai lo capiamo che siamo in un trend rialzista vediamo anche qua il momentum come sono andati su forte i sellers e come qua stanno riposando molto più lentamente prima di ripartire. Qui ho visto una cosa un attimo diversa che è una della quinta regole che abbiamo guardato ovvero la struttura vedete qua che questa era una struttura dove il mercato ci rimbalzava tante volte 1 2 3 4 5 e qua il prezzo l'aveva rotta doveva tornare a chiuderla come abbiamo visto prima. Quindi ho docchiato questa zona il trend ce l'avevamo a favore la dominance anche perché l'ultima struttura appunto era questa qui rotta da questi buyers sul daily eravamo in questa situazione qua eravamo in un treno a rialzo anzi di nuovo sappiamo che qua al mercato prima comunque di continuare il suo rialzo bello potente doveva chiuderci questa inefficienza qua quindi tornarci in questa zona per questa zona qua. L'entrata l'ho preso nei time frame più piccoli questa era la nostra zona che ci eravamo segnati e da dove parte l'immissione che poi ci rompe tutto ecco perché servono i time frame piccoli per essere precisi perché qua possiamo vedere che questa era l'ultima in missione short prima del rialzo quindi io ho tirato una semiretta qua potevamo arrotondare quindi 660 la possiamo mettere sull'80 vedete anche un po più su ma in questo caso ce la prendeva anche più bassa però per sicurezza per questo movimentino qui non ci perdiamo una bella entrata. Poi se andiamo su h4 e vogliamo tirare fibonacci dal minimo in questione al massimo che era questo sappiamo che qua c'è comunque la zona tra il 71 e il 78 il mercato riposa e poi boom ci va nella nostra entrata qui il take profit potevamo metterlo magari il primo dal massimo precedente dallo spike o dove volete voi dipende dal vostro trading plan e i secondi piano piano parzializzare mentre salivamo. Questa è la quarta e penultima entrata ora andremo un attimo più veloce visto che avete capito tutto senza spiegare ogni cosa qua vediamo che eravamo in un trend ribassista massimi e minimi più piccoli ma vedete che se ci soffermiamo su h3 o su h4 voi giustamente non riuscite a capire perché sono entrato qua è per questo che servono i time frame più piccoli quindi la dominance anche qua è a nostro favore perché vediamo che l'ultimo minimo è stato rotto da questi sellers. La visione di contestualizzazione comunque se andiamo sul daily io sapevo che almeno in questo momento qua dove siamo entrati a mercato noi dovevano tornarci giù a chiudere questa inefficienza e a parer mio a cacciarmi anche tutta questa liquidità dinamica che c'era e una conferma in più era che mi hanno rotto la trendline vedete potevamo tirarci la trendline così questo era anche un ritest della trendline e un test sulla candela precedente buy to sell questo è un engulfing ribassista quindi questa era un'ottima conferma. Anche sul daily se scendiamo di time frame già guardiamo h2 potete capire molto meglio perché sono entrato qui è lo stesso ragionamento di sempre io mi devo chiedere da dove parte l'immissione che mi rompe la struttura che dove andrà al mercato a ritestare questa era la struttura precedente vediamo che qui c'è l'ultima emissione a rialzo prima dello short potente quindi io volendo potevo prendere questa candelina oppure qua su h1 la vediamo molto più piena e più bella come ci piace a noi quindi potevo mettere tirare una semiretta qua ovviamente poi andavo a rotondare con la number theory quando andavamo sul 20 e questa era la nostra entrata precisa con lo stop dove lo stop sopra la candela sopra i rifiuti vedete come il mercato ci ha reagito precisamente con i taking profit qua che come abbiamo detto c'era la chiusura in efficienza vedete qua questo era un bel 1 a 20 di rischio rendimento quindi un rischio rendimento molto alto e vedete che non abbiamo fatto le magie abbiamo usato questi quattro concetti dove appunto in mezzo c'è avere la contestualizzazione capire quello che sta succedendo a mercato che è fondamentale e abbiamo messo in pratica e qua si poteva fare una bella bella percentuale ultima entrata ma non per importanza ve la volevo portare su un time frame più alto quindi un'entrata con molti più pips di stop loss ma anche con un take profit maggiore perché come abbiamo detto questa operatività va bene su tutti i time frame quindi la prima entrata l'abbiamo vista ad esempio su m5 m15 che si poteva prendere questa invece è un'entrata che potevamo fare sul daily con gli stessi concetti qua eravamo in un trend rialzista in questo momento il mercato ci stava facendo massimi e minimi più grandi e qua siamo sul daily sappiamo di nuovo che il mercato perché ci deve arrivare qua ci deve arrivare a colmare l'imbalance che è la nostra calamita è come se qua ci fosse una calamita e il mercato ha tratto perché deve andare a chiuderla qui la dominance era a nostro favore perché l'ultimo massimo era questo rotto da questi buyers e l'entrata la potevamo mettere qui che è l'ultima emissione che mi piace del daily vedete come queste candeline vanno short prima del long che ci rompe questo massimo ne potevamo mettere anche una verso il 50 per cento di questa immissione a ribasso tenendo solo i corpi ovviamente quindi ne potevamo mettere un'altra qui su questi livelli qua qui ho il 964 andrò a fare 950 quindi questa era la prima entrata che la spostiamo un attimo più in qua e questa era la nostra seconda entrata che potevamo fare con lo stop loss qui sotto il minimo ora noi vediamo 100 pips di stop loss sì ma io sto parlando ora per chi opera strass swing su lungo termine per fare vedere che questa operatività si può fare anche nei time frame più grandi poi una cosa che non dobbiamo fare è guardare i pips di stop loss o di take profit perché quello che ci importa è il rischio e rendimento perché comunque qua alla fine sì abbiamo più pips di stop perché ovviamente siamo sui time frame alti ma abbiamo anche una visione molto più lunga perché siamo sui time frame alti quindi avremo anche un take profit che invece dei soliti 100 200 pips 50 pips qua è 1000 pips il take profit questa ancora non è arrivata a destinazione finale ma vedete che deve arrivare qua a colmare linee efficienza e magari su questa emissione che mi ha portato la rottura di queste strutture qua e questo era un altro 1 a 8 barra 1 a 11 che anche un trader swing si poteva prendere eccoci qua ragazzi siamo arrivati alla fine del video a me fa un sacco piacere parlare con voi fare questi video mi diverto veramente tanto però visto che non vi sento non riesco a capire cosa ne pensate quindi mi farebbe ancora più piacere vedere che tutto questo lavoro viene apprezzato da voi quindi se riuscite a lasciare un commento un mi piace a farvi capire che vi stanno servendo questi concetti che vi vi giuro ragazzi in veramente pochi portano su youtube dove parlano di tutto così senza problemi gratuitamente ma molte persone per questi concetti qui si fanno pagare migliaia di euro quindi anche se volete aiutare un vostro amico che vuole iniziare a far trading nel mio canale youtube c'è tutta una formazione che parte dalle basi quindi potete anche aiutare i vostri amici che conoscete a cui volete bene per fare studiare in un posto attendibile con molte informazioni che solitamente costano migliaia di euro vi ricordo anche di iscrivervi per rimanere intanto per voi sempre aggiornati con tutti i video e non perdervi delle nozioni che magari poi possono essere fondamentali per il vostro trading e anche perché vedo che il 50% delle persone che guarda i video non è iscritta e quindi a voi magari non cambia niente ma a me farebbe un immenso piacere mi farebbe lavorare ancora di più e portare ancora più contenuti con questo ragazzi vi saluto grazie per la visione ci vediamo nel prossimo video